L'amministrazione comunale sta seguendo e pertanto mi sento di dire che noi garantiamo a tutti i vercellesi di avere massima attenzione e impegno per tutte quelle che sono le proposte da parte di imprenditori e di gruppi internazionali per eventuali insediamenti presso il nostro territorio, sempre nel bene della città e del territorio.